Il mio ideale! E poi mi fa venire in mente che devo andarvele. Siccome non avete orologi, io esattamente tra tre quarti d'ora e sedici minuti ho un incendio all'alto campo della città. Devo sbrigarmi, per quando non sia un granché. E di cosa si tratterà? Un piccolo fuoco di cammino? Oh, ancor meno. Un piccolo fuoco di paglia e un bruciolo di stomaco. Il nostro, malgrado, lei ci lascia. Questa compagnia è stata delle più piacevoli. Grazie a lei abbiamo passato un quarto d'ora veramente cartesiano. A proposito, la cantatrice calva? Si cantina sempre allo stesso modo. E allora, tante saluti alla compagnia. Buona fortuna e buon fuoco. Speriamolo per il bene di tutti. Scena undicesima. Scena undicesima. Io posso comprare un coltello tascabile per mio fratello, ma voi non potete comprare l'Irlanda per vostro nonno? Si cammina con i piedi, ma ci si riscarla con l'electricità o col cartone. Chi vende uno vino oggi, domani avrà un po' vino. Nella vita bisogna guardare le cose dalla finestra. Cioè se può sedere sulla sedia, quando la sedia non è a... Bisogna pensare sempre a tutto. Il soffitto è sopra, il palimento è sotto. Quando si dice sì, si fa perdire. Ad ognuno il suo destino. Prendete un ciclo, coccolatelo, diventerà vizioso. Il maestro, ma la gatta, l'ha dei piccoli quando sono piccoli. Tuttavia, la bacca ci dà le sue code. Quando sono in campagna, amo la solitudine e la calma. Lei è ancora troppo giovane per cose simili. Beniamino Franklin aveva ragione. Lei è meno tranquillo di lui. Quali sono i sette giorni della settimana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is the clerk. Your sister Nancy is a typist, and his brother William is a shop assistant. Che strana famiglia. Mi riferisco non c'è lui in un campo, che una viola su una carriola. Meglio l'altro cosa fatta, che un pazzo in un palazzo. Scusami a casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri un'apatia. Non conosco abbastanza lo spagnolo per farmi capire. Io ti darò le pantofle di mia suocera, se tu mi darai la palla di tuo marito. C'è il casimono con monofisica. Scopo matrimonio con nostra cameriera. Il pane è un albero, mentre il pane è anche un albero. E la vercia nasce in vercia tutte le mattine all'alba. Mio zio vive in campagna, ma ciò non riguarda la levatrice. Sulla carta si scrive. Col gatto si piglia il topo. Il formaggio si gratta. L'automobile va molto in fretta, ma la cuoca prepara meglio le pietanze. Non siate sciocchi. Abbracciate piuttosto il cospiratore. C'è un'invite che in se trovo. Aspetto che l'acquedotto venga a trovarmi il mio mulino. Si può dimostrare che il progresso sociale è molto migliore con lo zucchero. Abbasso il lucido. Non si uccidono gli occhiali con il lucido da scarpe. Si, però con i soldi si compra ciò che si vuole. Preferisco uccidere un coniglio che cantare in un ripostiglio. Cacatue, 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 cacatue. Che cacata, che cacata, che cacata, che cacata. Che cascata di cacate, che cascata di cacate, che cascata di cacate. I cagnano e i pulci, i cagnano e i pulci. Cacchus, coccatue, coccate, coccate. Coccodrillo, non ci coccolare. Preferisco fare un uomo che parlarti di nuovo. Lasciatemi arrotare dentro. Caimano. Andiamo a schiaffeggiare Ulisse. Vado ad abitare nella mia bicocca tra i miei cacai. I cacai del cacaiete non danno cacchi. Danno cacao. I cacai del cacaiete non danno cacchi. Danno cacao. I cacai del cacaiete non danno cacchi. I mani hanno peli, i peli non hanno pali. La cuccia o la cuccia? Dai la cuccia, la babbuccia della cuccia del Lucio! Sputa la cuccia! Il Lucio sul lecchio! Il leccio guaccio luccica, leccio guaccio luccica! Luccica il laccio! Ma le dette vantaccio! Non ce la faccio! Faccia di feccia! Dammi la treccia! La feccia di fecciadella! Niente di fecciade, è già scodata! Salvi! Proudhon! Cossuò! 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 Mariella fondo di scodella! Cris na morte! Cris na morte! Cris na morte! Cris na morte! Il papa papa! Il vero papa è il papa vero! Il papa vero non è un vero papa! Bazzà! Guardate! Bazzà! 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 A E B O U! A E B O U! B G D F G O K E M E N D Q R S D Voteno! orship Life BI B F B 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 Grazie. Grazie. Grazie.